Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sto scappando. Fra, io sono lì di fianco, ma sto prendendo un mezzo. Tento sparare. Mancato uno. Devi dare una mano, ragazzi. Sto lì in zona. Su quale tetto sei Fra? Ho fatto uno. Ah, ti ho visto, ti ho visto. Ah, hai visto uno? Due, ne ho visti. Cerco una posizione, Pix. Ho fatto un altro? Vabbè, è un'altra macchina da me. Ho fatto un altro? Eh, non ho due qua davanti, brah. Ne fatti tre, eh? Resistete, raga, state su. Ho fatto un altro? Ho fatto un altro? Ho fatto quattro, raga. Raga, una mano. Venite? Sto manco io. Sto manco io. Hanno detto che te la live ha visto in terza persona. Siamo venuti apposta là sotto perché non eravamo visibili. Noi eravamo visibili dal momento in cui stavamo sulla scala. Sì, sì. Sì, 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 sì. Era quello che... Vabbè... Godiamoci lascia, ragazzi. Se tu? Sì, sì, sì. Sì, 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 si. Andiamo a ciò che... do una mano non è tanto adorabile è un piccolo insetto eccolo lì ma qui rimudo a senna mai check 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 ragazzi fatti 3 fatti 5 fatti 5 fatto 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 ma porco dio che ma non mi dovevi coprire tu due colpi mi hanno lasciato con un quarto di vita e c'ero tu cazzo mamma mia ma come la cosa l'attenzione che la c'è la bombola dove lì esplodete voi perché fortuna che avevo la cassetta d'attrezzi che mi ha tutti per il colpo in che ha pensato di aver mai visto quello che ha chiamato la mia ragazza zuccherino è che si vuole fare un giro si si confermo allora is ti ritengo fortunato che idiota che sei sei l'idiota tutto bene signore si si tutt'appunto perché con la scena ma no mi sono chiusi gli occhi ma mi sono chiusi gli occhi mi sono chiusi gli occhi fai curi porco dio sciglia aiuto edi sibillo edi sibillo eravate morti tutte e due sibillo edi boom schiaffetto schiaffetto educativo ringrazia maroni ringrazio server che è leggerci ehi schiaffetto sibillo ehi ma è sta fotica e te sta fa fatto 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 bravo 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 oh oh vabbè io il risultato eh grazie che devo fare vai vai